La DIA ha eseguito un decreto di sequestro nei confronti di un imprenditore operante nel settore del commercio di materie plastiche nella raccolta di rifiuti nella provincia di Ragusa. L'imprenditore, già condannato per traffico di stupefacenti, è coinvolto anche in altre inchieste della Procura della Repubblica di Caltanissetta con l'accusa di aver fatto parte di un'organizzazione di stampo mafioso finalizzata alla Commissione di Estorsioni nei confronti di imprenditori agricoli ed è stato recentemente arrestato su richiesta della Procura della Repubblica di Catania perché si sarebbe avvalso della capacità intimidatrice tipica del sodalizio mafioso e della conseguente condizione di assoggettamento e omertà per monopolizzare la raccolta delle plastiche dismesse dalle serre insistenti in provincia di Ragusa imponendone ai suoi ricoltori il conferimento in via esclusiva ad una sola impresa. Il destinatario della misura avrebbe strutturato le proprie attività economiche avvalendosi dell'appoggio di esponenti di primo ordine del clan carbonaro dominante inserito nell'organizzazione mafiosa denominata Stida presente nell'Interland ibleo sin dagli anni Ottanta. Diverse attività investigative hanno accertato che in quel territorio tale gruppo criminale ha assunto una posizione di assoluto monopolio nel fiorente settore del riciclo delle materie plastiche impiegate in agricoltura, tanto da inquinarne il tessuto economico. Il Tribunale di Catania sezione misure di prevenzione, valutando positivamente gli elementi forniti dalla Procura della Repubblica e dalla DIA e ritenendo sussistente la pericolosità sociale dell'imprenditore, ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca del patrimonio riconducibile all'imprenditore tra cui figurano tre aziende operanti nel settore del commercio e riciclaggio della plastica, un immobile, tre autovetture e un motociclo per un valore di circa 3 milioni di euro.